Hey, nothing you can say, because he's gonna trade what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna trade what's mine E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Overwatch, oggi siamo con Reinhardt, purtroppo è iniziata un po' tardi questo match Cioè ho iniziato solo adesso, quindi non è che posso far tanto Volevo provare Reinhardt, vabbè, ce la godiamo un attimino, addio Ce la proviamo un attimino e vediamo come va a finire, intanto non penso che potrò vincere mai, però voglio provare come funziona perché Come fai a utilizzare Reinhardt qua? In fondo lui non ha nulla di... Di attacchi dalla distanza, quindi ti metti qui e li aspetti Buongiorno No, bastardo Buongiorno Tressa Salve Torjor, bam Ma che cazzo gli son caduto in faccia? Ma no, dai Io son caduto in faccia a questo qui Con il calo al martello Come ha fatto a rimanere in piedi? Ed è anche l'ultimo mirino, adesso vedete io che gli faccio un bel cazzo di calo al martello in faccia Va bene Va bene Stordito, mezzo secondo, non è neanche caduto Buongiorno Sì, 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 è arrivato già a crata di addietro Mi ha ammazzato uno? Ah, perché era una mini diva Allì stanno tutti fuori Allora, la diva ce l'ha con me Boom Solo uno Un'altra cosa? Ah, sono due diva Vieni qui, mini diva Tante boom, boom, boom che stanno arrivando adesso Addio Reaper Non puoi avermela annullata, dai Da pazzo da te Rompicazzo di un genocrato Un'altra cosa? Perché? Nooooooooooo! Pezzo di merda! Come ne ha approfittato! Buongiorno! Praticamente l'unico modo per ammazzarmi per me è quello! Noooo! Perché ho preso il coso? Ah! Interessante! Mi stava colpendo lo stesso? Questa non la sapevo! Dove credi di andare? Ma perché? Era mia l'uccisione! L'ho buttato io giù! Che cazzo sta facendo? Sei bancato! Ok! Vieni con me bello! Tanto dato che non mi danno l'uccisione! Anche se mi suicido nessuno si ammazza! Quindi o ti porto con me! O muoio da solo! O muoio da solo! Oh! Buona! Tu Giancrata hai rotto il cazzo! Ti sto neanche ad affrontare! Nooo! Caricaaa! Dove scappi fezzo di merda! E che adesso me la da l'uccisione! Adesso voglio capirla! Me l'hai dato oppure no? Forse! Aio! Ma va cagare te con la bomba in buca va! No! Tracer rompi cazzo! Ma chi è? Ma basta rubarmeli! Daiiii! No! Stai scherzando vero? Se mi attaccano in tre però! Dai! Come cazzo si fa? A me qualcuno ho ammazzato almeno! Maaaah! Troppi! Già troppi Jankrat! Già che ce ne sono quattro! Chi uccido io qui? Chi uccido? Vabbè! Uccido Jankrat a caso! Senti quanti bombe in buca! C'è la terza di fila! Guarda dove sta quello! Ma va cagare Teleton! Ai nun! Non ci posso credere! Ha fatto l'anzo l'ha fatto! Ma vaffanculo anzo de merda! L'ho mancato! Ma io non dovrei essere più veloce quando da le mazzate! Non ha senso! Boh! Vabbè! Nooo! Non notarmi! Devo prendere la vita! Eh sei stronzo allora! Sei un figlio di puttana! Giorno anzo! Come butta! Scusami? Come mi ammazza? Ah con la trappola! Noi dicevo come faceva a ammazzarmi le bombette che ero a 3 km! Sento un altro anzo! Eh un altro anzo! Un altro Jankrat! Un altro anzo! Nooo! Ha incazzato! E non l'ho ammazza da incazzato! Ho ammazzato qualcuno? Che bastardo! Non sapevo che c'era una botolina! Ciao Jankrat! Ok! Volevo ammazzare anche Moira! Ma a quanto pare no! Ho ammazzato qualcuno però! Moira! Cos'è? Da dove stavi spammando? Pezzo di merda di un Winston! Ok! C'è un altro Reinhardt! Che carino! Mi aiuta! Oh! Ho fatto un paio di uccisioni! Che è che mi sta robendo il cazzo? Grazie anzo per essere venuto da me! No! No! Erano tutte in fila! Ok! Non ho capito! Continuo a non capire se quella... l'onda energetica attraversa la barriera oppure no! Mi è davvero impossibile capirlo se tu con quella cazzo di scatterla... ...o ti userete quella posizione lì di merda eh! Ti sfido neanche perché sei una merda! Vediamo! A quanto pare si l'attraverso! Cosa? Vieni qui! Ok! Mi mancano due uccisioni incredibili anche a me! Dai! Ti prego! Ho anche la ulti tra poco! No! Devo farmi la ulti e poi ultare! No! Come cazzo l'ha evitata? Niente! Non posso farmi uccidere da lui! No! Ahhhh... Però una volta avevo fatto una bella partita! E ho fatto anche l'azione e migliora la partita! Vabbè! Ehm... ragazzi non ce la posso fare a continuare e ho fatto anche un paio in più perché purtroppo fare Reinhard in questo match cioè ti trovi un Junkrat... a parte che sono uscito e mi ha fatto ricominciare vabbè trovi Junkrat ovunque quindi non puoi far nulla vabbè ci vediamo alla prossima grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao